In queste ore, di fronte alla tragedia di Ischia, che ci lascia tutti sgomenti, mentre i soccorritori ancora scavano nel fango per cercare dispersi, certi politici gettano fango su di me. È la sempiterna categoria degli sciacalli. Vengo accusato di aver introdotto un condono per le abitazioni di Ischia. Si vuole collegare la tragedia, le reazioni emotive di queste ore a una presunta mia responsabilità per aver sanato edifici abusivi. Niente di più falso. Veniamo ai fatti. Il cosiddetto decreto emergenza del 2018 non contiene nessun condono, ne ha riaperto i termini per essere riammessi a vecchi condoni. Gli unici condoni effettivamente realizzati nel corso del tempo sono quelli imputabili al governo Craxi del 1985 e ai governi Berlusconi del 1994 e 2003. Questa norma introdotta nel 2018 serviva perché Ischia e la ricostruzione post terremoto era rimasta completamente paralizzata. Bisognava capire a chi poter dare il contributo pubblico per la ricostruzione dell'immobile danneggiato dal terremoto del 2017 e a chi non era possibile darlo perché è proprietario di un immobile abusivo. Questa norma ha stabilito che occorreva dare una risposta entro sei mesi per la certezza del diritto. In questi mesi lo Stato deve assolutamente dire una volta per tutte quali immobili sono conformi alle norme, quali invece andavano demoliti. Lo Stato non può erogare fondi, capite bene, a chi è un immobile abusivo. Ecco spiegata la necessità di dare risposta entro sei mesi. Ora sapete quante pratiche sono state accolte e hanno avuto una valutazione positiva dopo questa norma introdotta dal Conte 1 nel 2018? Da Ischia ci informano in queste ore, solo sei, pensate, solo sei su un totale di circa 1400 abitazioni danneggiate o distrutte. Questo conferma il fatto che se un immobile era abusivo prima è rimasto abusivo dopo. E chiariamo subito che la norma del mio governo non ha riguardato 27.000-28.000 pratiche di condolo pendenti e ischia da decenni a causa delle scelte dei governi passati, ma solo gli immobili compresi nel cratere del terremoto e danneggiati dal sisma. È anche falso affermare che questa norma abbia girato i vincoli a tutela dell'ambiente e del territorio. Al contrario, questa norma ribadisce la necessità che l'immobile abbia il previo parere dell'ente pubblico preposto al vincolo. Cosa significa? Vanno rispettati tutti i vincoli paesaggistici e ambientali. In particolare per quanto riguarda il vincolo idrogeologico, sottolineo che è stato introdotto da un decreto del 1923 e non è stato mai rimosso. Qualcuno gioca su un equivoco. Nel titolo dell'articolo 25 c'è scritto definizione delle pratiche di condolo. Per forza. La norma riguarda l'accertamento dell'abusività o meno degli immobili danneggiati compresi nel cratere. E come detto è il preciso obiettivo di dare certezza ai cittadini. Ma ripeto, se l'immobile era abusivo prima, anche dopo è rimasto abusivo. Qualcuno obietta che nella norma poi venga fatto riferimento per le procedure di valutazione alla legge del 1985. Vero. Ma anche le due leggi successive sui condoni del 1994 e del 2003 hanno fatto riferimento alla legge del 1985 per le procedure. Questo ai fini di creare una uniformità procedimentale. In conclusione un certo modo di fare politica non trova nulla di meglio in queste ore in cui si è appena consumata una grave tragedia che colpire gli avversari politici avventandosi su falsità e menzogne rilanciate ad arte. Questa per noi in realtà non è politica, è sciacallaggio. Siamo vicini ai familiari delle vittime, a tutte le famiglie danneggiate e all'intera comunità ischitana. E questo è quello che conta.